La storia di un no, quando l'uomo ha preferito guardare a sé piuttosto che al suo creatore, è la storia di un sì, quello di Maria, al momento dell'Annunciazione. Nella solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, Papa Francesco ha commentato le letture del giorno, ripercorrendo in qualche modo le origini del bene e del male. Se da una parte, nel Libro della Genesi, troviamo la radice del peccato quando l'uomo ha scelto di uscire dalla comunione con Dio, nel Vangelo riconosciamo che grazie al grande sì di Maria, l'unica creatura senza peccato, Gesù ha cominciato il suo cammino sulle strade dell'umanità. È il sì più importante della storia, ha detto il Pontefice, il sì umile che rovescia il no superbo delle origini. Anche per ciascuno di noi c'è una storia di salvezza fatta di sì e di no. A volte, però, siamo esperti nei mezzi sì. Siamo bravi a far finta di non capire bene ciò che Dio vorrebbe e la coscienza ci suggerisce. Siamo anche furbi per non dire un no vero e proprio a Dio. Diciamo, ma scusami, non posso, non oggi, pensiamo domani. Ma domani sarò migliore, domani pregherò, farò del bene, ma domani. Così, però, chiudiamo la porta al bene e il male approfitta di questi sì mancati. Ognuno di noi ne ha una collezione dentro. Dire sì a Dio è veramente originale, è origine. Non il peccato che ci fa vecchi dentro. Avete pensato questo? Che il peccato ci invecchia da dentro? Ci invecchia presto. Ogni sì a Dio origina storie di salvezza per noi e per gli altri.